Bene, adesso parleremo della deglutizione. La deglutizione è un riflesso automatico innato ed è uno dei due riflessi innati insieme alla respirazione che ci accompagnano nell'esordio in questo mondo. Quando si nasce due riflessi della deglutizione, della respirazione, ci permettono di respirare e di deglutire le prime sorsate di alimenti che ci arrivano da lattanti. È un riflesso che poi ci portiamo evidentemente avanti tutta la vita, però attraverso delle fasi di maturazione. Il riflesso del cosiddetto lattante, del neonato o infantile, prevede il movimento della lingua verso l'avanti a infrapporsi tra le due arcatine gengivali per ricevere il capezzolo o la tettarella di gomma. La bocca è sigillata, si mette in moto tutta una concatenazione di contrazioni muscolari che porteranno il latte succhiato nello stomaco, prevedendo un attimo prima del passaggio del latte in gola la chiusura dell'epiglottide, quindi l'evitare da parte del latte di invadere l'albero respiratorio e quindi di creare enormi problemi per la sopravvivenza del neonato per soffocamento. A 6-7 anni di età inizia a modificarsi quello che viene definito lo schema motorio attraverso il quale la lingua incomincia a proiettarsi sul palato, a inarcarsi e a permettere in questo modo la discesa nello stomaco del bolo alimentare. Quindi è un processo estremamente importante, di vitale importanza direi, e che si ripete circa una volta al minuto in quanto noi deglutiamo automaticamente la saliva. Ebbene, nel 45% della popolazione questa maturazione della deglutizione da deglutizione del neonato, del lattante, a deglutizione dell'adulto non avviene. Il meccanismo di progressione, di evoluzione funzionale si inceppa e non si sa ancora per quale motivo, per cui l'adulto continua a deglutire proiettando la lingua in avanti. Ora, questo non è solo un piccolo particolare formale, è un aspetto decisamente importante e determinante per quanto riguarda lo sviluppo del massiccio facciale nel ragazzo, nel giovane che sta crescendo. Infatti, la spinta linguale sul palato, per circa 2-3-4 mila volte al giorno, rappresenta una spinta decisiva per l'espansione del palato, il quale, ingrandendosi volumetricamente, quindi tridimensionalmente, permetterà alla fine della crescita un buon rapporto tra quella che sarà la dentatura ultimata dell'arcata superiore con la dentatura dell'arcata inferiore. Se questa spinta linguale non avviene, ma continua a spingere in avanti in questo schema non modificato, non maturato, la crescita del palato non avviene, l'espansione della volta palatina non avviene, il palato rimane stretto e la dentatura incomincia ad assumere una morfologia di questo tipo, cioè una morfologia proiettata in avanti. Cosa bisogna fare per correggere la deglutizione sbagliata? Bisogna imparare a deglutire come si dovrebbe, attraverso una serie di sedute logopediche e attraverso una serie di 8-10 sedute e molti esercizi a casa si corregge a qualunque età la deglutizione sbagliata. Accanto al ciclo di logopedia, quindi di rieducazione funzionale della deglutizione, è frequente l'utilizzo di un presidio intraorale definito elevatore linguale notturno. Questo serve per evitare che la lingua durante le ore di riposo, quindi durante le ore del sonno, continui nella deglutizione a spingere in avanti, ma fa in modo che la lingua venga proiettata sul palato. È una specie di conchiglia che io definisco posizionatore linguale in proiezione verso il palato ed è estremamente utile perché evita per l'appunto per quelle 6-8 ore, 10 ore di sonno quotidiano le spinte della lingua in avanti.